benvenuti a casa rinaldi altro appuntamento altro ospite oggi è tempo di presentarvi un giovane che nella sua splendida sicilia guardate qua che bel tempo e che bel caldo che c'è con noi c'è mario roberto valenti ciao mario buonasera a tutti buon pomeriggio come stai mario diciamo tutto bene mi godo in questo momento una bella giornata in uno dei miei luoghi del cuore ecco allora diciamo diciamo i nostri ascoltatori dove stai allora in questo momento mi trovo a san marco d'alunzio che è un un paesino della provincia di messina fa parte dei borghi più belli d'italia quello che vedete alle mie spalle il tempio di ercole che un tempio un tempio greco poi convertito in chiesa dai normanni per intenderci sono sopra il mio paese che è rocca di caprileone che si trova non so se è possibile darlo lì giù in fondo si vede capo d'orlando che è la cittadina dove stata scritta sapore di sale per intenderci ma pensa ma che bello quanto stai ecco io già con mario starei ore a parlare però abbiamo i tempi che sono stretti mario valenti vedete dietro di me c'è la cover del singolo che ci va a presentare pareidolia un titolo particolarissimo spiegacelo in pratica pareidolia appunto dalla sua radice greca significa vicino all'immagine e in qualche modo è un omaggio che io faccio nei confronti della della mia fantasia ma nei confronti della fantasia di chiunque per intenderci detta in maniera spicciola il feromero della pareidolia è quello che ad esempio ci consente di vedere il coniglietto sulla nuvola nel cielo oppure la faccia col nasone nei nei pomelli del lavandino o le fisionomie diciamo in qualche modo umanizzate nel retro delle macchine sì e magari quando quando andiamo che ne so prendiamo il bicchiere che ha lasciato l'impronta e vediamo quell'impronta lì che ci sembra chissà che cosa praticamente io sono andata un po guardare dice vedere quello che non c'è un'illusione noi ci illudiamo magari in quel momento stiamo pensando una persona vediamo un cuore per dire pensiamo che quel cuore che è la nostra psiche a plasmare ecco qualche cosa che anche qualcosa di che un fenomeno sano diciamo familiarizzare anche con ciò che ci circonda dare un carattere alle cose dove magari in realtà è tutto un elemento di tutt'altra natura ecco ci manca una persona e noi leghiamo quella cosa che illudiamo ci illudiamo di vedere a quella persona e la sentiamo magari al di là di essere rivolta a una persona è proprio il fattore di di essere un tutt'uno con quello che ci che abbiamo attorno non è non è proprio una mancanza non denota una mancanza denota anzi un sentirsi continuamente in compagnia di qualcuno bella bella vedere ad esempio io la facciata di questo di questo tempio mi ricorda in qualche modo una faccia con la bocca spalancata perché abbiamo gli occhi che sono le finestre è vero e poi abbiamo la e poi abbiamo la porta che è una faccia sbigottita una faccia neanche a farla apposta mi sono trovato qui che a parte che è un luogo che che io amo è presente nel mio videoclip che uscirà in anteprima su sky tg 24 il 19 ottobre e poi su youtube e quindi non è fatto apposta è proprio una situazione fortuita io diciamo però ho degli amici che sto portando a visitare i miei luoghi del cuore mi sono ritrovato giusto giusto qui allora guarda mario se vengo da quelle parti verso messina ti mando un messaggio ti dico mario portami a visitare il tempio perché sono curiosa di metterci i piedi con molto piacere mario bene attenzione mario valenti dunque classe 1994 vedete giovanissimo questo ragazzo un cantautore siciliano che opera a livello interdisciplinare sull'arte attraverso un fronte di ricerca nella scultura e nella pittura perché dovete sapere che lui non solo canta non solo scrive canzoni ma è professore di docenti di disegno e storia dell'arte e quindi lui conosce l'arte ecco perché ci ha spiegato bene le rovine di dove si trova adesso in questo momento e quindi ecco quindi adesso quando andate a messina da quelle parti cercate di ricordarvi mario valenti e quindi un cicerone che sa quello che vi va a raccontare non soltanto uno che ha letto così a memoria un percorso e lo raccontano a lui ve lo narra anche dal cuore una laurea in scultura e oltre a nutrire una profonda passione per l'arte visiva mario si è accostato anche all'universo musicale da autodidatta quindi non hai studiato è tutto farina del tuo sacco no no è mia diciamo il pianoforte è sempre stato il mio antistress magari nei momenti di sconforzo dell'adolescenza ecco per cui mi sono inizialmente ho imparato riproducendo le musiche da film ascoltando morricone zimmer e quel mondo là per cui ho sviluppato una sorta di una sorta di orecchio che poi è diventato un orecchio abbastanza funzionante assoluto assoluto non non penso no perché io per facilità ho sempre teso a portarmi sulla scala di do un po me ne vergogno ecco perché vorrei cominciare a studiare seriamente per per essere diciamo maestro anche in questo ecco perché il mio percorso è stato altro è stato quello della scultura l'ambito dell'arte visiva qui diciamo nell'ambito nell'universo musicale sto facendo i miei primi passi adesso perché prima era semplicemente qualcosa di racchiuso all'interno delle quattro mura della mia stanza però in quell'universo diciamo contenuto ho avuto modo di sviluppare quelli che sono secondo altri medium quelli che sono i miei pensieri anche nell'ambito dell'arte visiva io in qualche modo la concepisco come una società di mutuo soccorso tra le discipline dove la scultura può influenzare la canzone la canzone può influenzare la pittura e così via discorrendo poi è la poi è la poetica che è qualcosa è un filo che unisce il mio concetto è la mia ricerca ecco personale quindi è qualcosa diciamo che non si trova ovunque perché in qualche modo mi sento io un po' fuori posto da questo punto di vista perché siamo in un'epoca in cui tutto è settorializzato la figura di artista come la concepisco io forse una figura passata perché qualcosa che si trovava facilmente nel rinascimento ad esempio se noi prendiamo michelangelo michelangelo era scultore ma era anche poeta era anche diciamo esperto dal punto di vista della cultura la cultura era il filo che univa tutto leonardo stesso pittore ma era anche ecco avere la visione saperla sapersi destreggiare in quelle che sono le varie discipline e non per forza cercare di canalizzarsi verso una cosa sola che è quello che molti vogliono oggi invece io cerco di essere sempre fedele a quelle che sono le mie spinte culturali ecco perché che ho bisogno di fare io se sono scultore sento di scrivere una canzone perché dovrei impedirmi di scrivere una canzone giusto e di esprimere magari quel concetto in quel medium che secondo me può essere migliore ti è capitato di fare una scultura e di mentalmente scrivere la canzone? sì 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 mi è capitato mi è capitato io diciamo ho tanti inediti ho tante canzone inedite che finora sono scritte nel cassetto e che stiamo cercando di mettere un po' in ordine con la mia etichetta che è l'Anteros Produzioni e con le quali abbiamo in programma appunto di uscire nel prossimo periodo ecco beh praticamente le quattro mura della cameretta di Mario come vi siete accorti stavano talmente strette che lui ha buttato giù il soffitto tutto quanto ha aperto le porte i cancelli adesso lì a cielo aperto perché ha bisogno proprio di tanto spazio anche perché queste sculture queste poesie queste cose che lui ci racconta sono veramente immense allora in questa pareidolia indossi in questa cover degli occhiali a che servono quegli occhiali per visionare ancora di più? no quegli occhiali trasformano il mio volto in un'architettura io in quella situazione passo dall'animato all'inanimato che diciamo nel concetto della canzone è il processo inverso dall'inanimato portiamo fuori l'animato per cui diamo una fisionomia alla facciata della chiesa diamo una fisionomia alla nuvola e diamo una fisionomia a tutto ciò che la nostra psiche identifica come qualcosa di familiare io ho cercato di fare un percorso inverso la particolarità dell'occhiale dell'occhialino è una cosa è la seguente io ho una passione anche come passatempo oltre tutto questo che è quella di Minecraft non so se conosce Minecraft Minecraft è un gioco di costruzioni possiamo dire un po' una versione infinita dei Lego ah probabilmente sì 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 per cui ho questi occhiali no quando era piccolo mio figlio con Lego ci giocavamo in pratica sì Minecraft questo è l'estrema estrenzione del Lego in pratica su Minecraft nel corso di otto anni ho costruito una città stato una città d'arte in pratica e poi diventerà spero di rendere fruibile un futuro prossimo ecco una città fatta di palazzi di chiese di una città stato indipendente questi occhiali sono dei finestroni che io ho creato sul Minecraft e ho stampato in 3D per cui sono una sorta di pezzo unico eh immagino invece sai che cosa ci vedevo io è presente i burattini sì ecco a vederlo così io ci vedevo praticamente il palco dei burattini poi i pupi i pupi sì i pupi siciliani ecco io ci vedevo una cosa così perdonami se ho visto una cosa la cosa bella dell'arte è questa che qualsiasi cosa non ha un canale univoco può essere identificata e interpretata da chiunque in maniera diversa perché l'arte in qualche modo è seppur si serve i mezzi matematici la musica nello specifico si serve un po' della matematica eh però quando poi si toccano le note dell'arte eh o è successo qualcosa? allora ti sento probabilmente hai tolto hai toccato quella cosa eccola eccola qua eh in pratica eh se la matematica è qualcosa di scandito ecco di preciso l'arte poi diventa qualcosa di eh opinabile totalmente che al di là anche del gusto estetico perché l'estetica non è univoca è qualcosa di eh che ha mille sfaccettature ognuno eh codifica quello che ritiene il più opportuno anche in relazione al gusto hai gusto anche perché come si dice la bellezza è soggettiva perché una cosa che per me non è bello ciò che è bello è bello ciò che piace appunto quindi ricordiamo a dire pareidolia questo termine che ormai deve entrare nel nostro vocabolario perché adesso c'è questa generazione Z con tanti termini con eh con con per quanto riguarda il web e tutto il resto pareidolia devo dire che è un termine che dovremmo ormai ricordare questo brano di Mario Valenti che troviamo su tutte le piattaforme digitali possiamo crearle la nostra colonna sonora preferita con Spotify ricordiamo la musica che ci ricorda l'immaginazione che ci fa immaginare quello che magari mai avremmo potuto e quindi come dice lui si immagina si va avanti si va indietro un processo inverso che ti fa vivere in un modo completo tutto quello che è l'arte come diciamo la scultura la pittura la musica che fa parte del mondo di Mario Valenti grazie Mario di essere stato con noi grazie mille a te un abbraccio e buon lavoro grazie buona giornata a tutti